L'aiutate della Cosca, riprende ancora Natrella da ieri e è continuato ancora oggi su questo tema, nei fascicoli delle operazioni antimafia spunta l'elenco fornito dall'ex padrino Giampa Giuseppe con i nomi dei candidati sostenuti dal clan alle elezioni comunali. Poi nel piccolo ritratto l'ex padrino ha fornito agli inquirenti i nomi di otto consiglieri. Questo è il quotidiano di ieri, la pagina di Lamezia, pagina 32. Pasqualino Rettura parla ancora di dichiarazioni di Giuseppe Giampa e i Gualtieri si rivolsero a me. L'ex boss, ora pentito, rivela agli inquirenti notizie sui clan avversari. Mi fecero recapitare da Rainieri una lettera per vendicare il coccodrillo, scrive qui Rettura. All'ex boss Giuseppe Giampa gli sono state chieste dagli inquirenti informazioni anche sulle cosche avverse. Oltre agli omicidi degli anni 2000, l'ex padrino e figlio del capo storico Francesco Giampa, il professore pentito, si da oltre un anno insieme alla moglie Meliado, ha dunque risposto alle domande sui clan avversi ai Giampa. In particolare nell'interrogatore del 14 febbraio del 2013 gli è stato chiesto di riferire in merito ad eventuali notizie rilevanti che posso aver appreso personalmente sul gruppo Cerra Torcasio-Gualtieri nel periodo della mia detenzione carceraria, ovvero in quello immediatamente precedente. Quindi ha raccontato che poco dopo l'uccisione di Gualtieri Nicola, detto coccodrillo, se non erro, verso i primi mesi del 2011 venne da me Ottorino Rainieri per portarmi una lettera manoscritta da parte di Gualtieri Cesare, che all'epoca era detenuto, con la quale il Gualtieri mi chiedeva se potevo occuparmi di uccidere i due indagati risultanti come coinvolti nell'uccisione di Gualtieri Nicola, ovvero Vescio Matteo e tale Mascaro Francesco che inizialmente io avevo capito essere quello della Zurico Assicurazione, ma che il Ragneri mi disse essere un'altra persona. La predetta lettera fu data a me, fatta da me visionare a Molinaro Maurizio, a Torcasio Alessandro, detto Cavalli, a Ciccio Vasile. Prima di distruggerla ho chiesto il motivo per cui aveva portato a me detta lettera, chiedendo perché il Gualtieri Cesare non si fosse rivolto ai Torcasio, in particolare a Pasquale, e Vincenzo e a Torino mi rispose che prima di tale lettera recapitata a me, Cesare ne aveva fatto a recapitare un'altra Torcasio Pasquale e Vincenzo, chiedendogli la stessa cosa, ma per come riferito dallo stesso Torino in realtà i Torcasio si erano tirati indietro avanzando delle perplessità sull'autenticità della lettera, in quanto i Torcasio sostenevano che il Gualtieri, il Cesare Gualtieri, se avesse avuto davvero quella intenzione, si sarebbe rivolto direttamente a loro, senza utilizzare il tramite di questo Rainieri, al che io risposi a quest'ultimo, ben sapendo che in realtà Vescio Matteo e Mascaro da lui nominati non c'entravano nulla con l'omicidio di Nicola Gualtieri, che come ho già dichiarato nei precedenti verbali è stato eseguito dalla cosca di cui all'epoca ero io il capo, tra l'altro su mio stesso mandato, che mi riservavo di accertarmi che i due soggetti fossero effettivamente responsabili solo per prendere tempo. Tra l'altro aggiungo che in effetti in quello stesso periodo, anzi addirittura già nel periodo intercorrente tra la guado a Nicola Gualtieri e alla sua morte in ospedale, avvenuta dopo circa un mese, avevamo già organizzato l'eliminazione dello stesso Ottorino Rainieri, in quanto era il soggetto della cosca avversaria che nell'immediatezza si poteva muovere per vendicare l'attentato del Gualtieri. Tant'è vero, racconta ancora Giuseppe Giampà, che avevamo già effettuato vari appostamenti presso l'abitazione del padre, collocata in una traversa in prossimità del Midway. A tal proposito, gli inquirenti chiedono a Giampà di scendere nei particolari. Gli appostamenti venivano effettuate da Piraina Luca, Catroppa Pasquale, Torcasio Alessandro, Ugavallo e Molinaro Maurizio. Secondo Giampà, detto omicidio, non andò a buon fine, in quanto durante i vari appostamenti la vittima disegnata non rientrava presso la propria abitazione dove i suddetti lo attendevano, in quanto sapevamo che per via della sorveglianza speciale doveva rientrare a casa alle 21. E quindi noi lo appostavamo fin dalle 19, solo che in quel frangente Ottorino Rainieri non era rintracciabile. Queste le dichiarazioni di Giampà riportate dal Quotidiano. Assemblea convocata dalla destra, questo è il giornale di ieri del Quotidiano, per discutere sul problema del Campo Scordovillo occorre risolvere la questione Rom. Domani parte la raccolta di firme per lo sgombero dei nomidi nella zona, dalla zona vicino alla ferrovia, vicino all'ospedale. Vediamo sulla pagina della mezza di ieri, Giuseppe Natrella. Quale sarà il nome in codice della prossima operazione antimafia che potrebbe abbattersi sulla città? Così come ha lasciato intendere il procuratore aggiunto di Catanzaro, della DDA, Giuseppe Borrelli, nel corso della conferenza stampa dell'ultima operazione antimafia messa a segno della squadra mobile di Catanzaro, denominata in codice Insert Coin e che ha portato alla cattura di Gianluca Notarianni e di un suo cugino acquisito Antonio Giampà accusato di estorsione ai danni del titolare di un bar. In quell'occasione il procuratore aggiunto ha riferito che il suo ufficio dispone di elementi per la ricostruzione delle cosche che operano sulla mezza e li arresteremo tutti. Finiti Giampà ora toccherà agli altri e indicando alcune direttrici che hanno portato all'arresto di Notarianni, Giampà, il procuratore Borrelli ha aggiunto su queste direttrici ci muoveremo nei prossimi mesi aggiungendo risultati anche entro la fine dell'inverno. Quindi non è escluso che nei prossimi mesi cadrà un'ulteriore mannaia sulle famiglie dranghettistiche, Lamettino, che negli ultimi anni hanno intessuto rapporti affaristici con il mondo imprenditoriale e politico. E dai vari atti giudiziari che hanno interessato il territorio lamettino, negli ultimi tempi anche dalle pagine di Perseo emerge una città dove le cosche dettano legge, anche per ottenere appalti da quelli politici che hanno favorito durante le competizioni elettorali come è successo per la realizzazione di alcune rotatorie e per la costruzione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato, l'Ipsia, così come risulta negli atti. Secondo quanto si legge delle migliaia di pagine, la Cosca Giampà non avrebbe favorito solo persone candidate al Consiglio Comunale e regionale ma anche esponenti politici che si sono presentati alle elezioni e ai parlamentari. In particolare in un verbale il padrino Giampà dichiara testualmente che per quanto riguarda l'appoggio elettorale che la mia associazione ha fornito a candidati a varie elezioni ricevevamo una serie davvero inconsistente di richiesti. Il figlio del professore indica anche i nomi di chi si è rivolto alla sua cosca e i nomi dei candidati sostenuti nelle ultime elezioni comunali, nomi che naturalmente per rispetto delle indagini non riveliamo. Secondo quanto si legge sui verbali delle operazioni antimafia, quindi la Cosca Giampà non solo ha fatto confluire voti su esponenti politici di primo piano ma anche su candidati che si sono presentati nelle ultime elezioni amministrative vinte dal candidato del centro-sinistra. Non è escluso quindi che in seguito al Consiglio Comunale siedano rappresentanti della Cosca, aiutati anche dai fratelli trovati. Secondo quanto si legge nelle pagine dalle diverse operazioni, probabilmente i consiglieri comunali affini in modo diretto o indiretto, anche attraverso legami di parentela, sarebbero in tutto otto equamente divisi tra maggioranze e minoranze che siedono tra i banchi del Consiglio Comunale che sosterrebbero gli affari del mondo criminale. Alcuni di questi in alcune circostanze avrebbero anche o accompagnato alcuni esponenti del mondo criminale nei vari uffici comunali o meglio nelle loro richieste. Consiglieri pur di ottenere qualche voto arrivano a sostenere nel nome della legalità e tra i risultati anche presunti comitati che si spacciano per promotore nell'interesse collettivo ma che in realtà nascondono al loro interno soggetti vicini al mondo della criminalità organizzata e per i quali l'amministrazione presta al fianco all'interesse dei beni del bene comune. Un bene che non sempre sfonde agli interessi della collettività ma alla volontà di un politico che per propri interessi elettorali non disdegna di sponsorizzare esponenti della criminalità organizzata magari accompagnandoli anche negli uffici comunali. Tra i banchi del Consiglio Comunale siede anche un consigliere i cui parenti stretti hanno preso parte al matrimonio della sorella di Giuseppe Giampà Vanessa è venuta a Mesagne nel 2 aprile del 2011 e a testimoniarlo ci sono anche le foto allegate al fascicolo dell'operazione Medusa. Come emerge da alcuni atti nelle ultime elezioni amministrative non è stato solo la cosca Giampà a sponsorizzare i candidati al Consiglio Comunale dal momento che sul territorio Lamettino gravitano altre consorzerie criminali che controllano il territorio dell'ex comune di San Biasa le zone delle montagne e l'ex comune di San Teofemia. Gruppi mafiosi che probabilmente hanno fatto eleggere propri rappresentanti i cosiddetti colletti bianchi che vengono utilizzati dalla cosca come specchietto dell'opera di concessione di licea in dispeggio a regolamenti enormi di licea come nel caso di alcuni immobili sequestrati dal fiammeggiare nell'ambito dell'operazione per sé. Quindi come dimostrato l'operazione per sé ci sono anche soggetti di libertà a disposizione dei clan Lamettini, bosche che danni avrebbero la terza città della presa ma mettendo le mani sui palti e sulle forniture compiendo estorsioni per le pareti si sono stati ricostruiti almeno 100 casi di estorsione e soprattutto godendo di una puntuale rete di protezione uno scenario che tutti conoscono ma che nessuno ha il coraggio di affrontare così come fece nel lontano 2001 un questore che mise nero su bianco il perverso intreccio politico mafioso che condizionava lo sviluppo sociale ed economico della città fino a determinarne lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Da allora ad oggi lo scenario come emerge in maniera prepotente non solo dalle carte di Perseo non è cambiato per nulla. Chiude il dottore Natrella questo articolo. Noi ci salutiamo e ci riascolteremo alle prossime letture. Ciao ciao a tutti.